Il sogno della mia vita, Wanda. Vogliamo offrire il primo coffee shop al mondo in mezzo alla giungla. E sarà fantastico, credimi. Con tutti i cani che potevamo reclutare, era proprio necessaria una cagnetta handicappata? Disabile. Non ce li ho i soldi, ragazzi. E allora terminiamo quel cric. Ma che hai detto cicciola, brutto figlio di prostituta? Sono una transessuale. C'hai l'effetto o no? La mia intimità è femminile. E il pene? Però le piacciono gli uomini. Più le donne, a dire il vero. Hai già giocato stamattina? Ma no, fine, te lo giuro, sono pulita. Ciao, Phil. E tu come sei entrato? Come stai? E tu come stai, papà? Come va nella tua comunità? Ti prego, Lucia. E sai un'altra cosa? Sei ridicolo. Sei l'unico transessuale della storia col cazzo piccolo. Ma non è assolutamente vero. Lei lo ama ancora, vero? Cos'importa, lo vedi com'è diventato. Non sono mai stata con nessuno in questi anni, sai? Sono due deficienti andrebbero a coltivare droghe in uno dei paesi che ha più droga al mondo. Ma hai presente quanta roba ci può stare in quel bagagliaio? Altro che bulldog francese. Adesso uniamo il primo e vediamo come va. Allora? Ah, perfetto. Fatto il primo, fatti tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.